Dove sta a prima vista l'inghippo in questa lattina? In realtà come potete vedere si tratta di una lattina assolutamente anonima laddove le lattine originali hanno le caratteristiche del prodotto e il marchio serigrafato sull'alluminio. In questo caso invece la lattina era semplicemente ricoperta da uno strato di cellophane per così dire stampato che in realtà copriva solo parte della lattina e si poteva asportare facilmente. Poi un'altra caratteristica è quella della linguetta che assolutamente presenta caratteristiche diverse dall'originale. Oltre 15.000 lattine di una nota bevanda energetica con marchio contraffatto sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Torino all'interno di frigoriferi o magazzini abusivi. 8 persone tra italiani e stranieri dovranno rispondere di vendita di prodotti contraffatti, ricettazione e frode. Dalle analisi del laboratorio chimico delle dogane di Torino è stata rinvenuta una differenza sostanzialmente dei contenuti degli ingredienti. Come sappiamo questi prodotti energetici contengono due famosi ingredienti energizzanti. Uno è un amminoacido, la taurina, l'altro invece è la caffeina, nota a tutti. In particolar modo, mentre il contenuto di caffeina era sostanzialmente conforme al prodotto originale, la sostanza sostanzialmente costa poco, il contenuto di taurina era notevolmente inferiore a quello originale. Si tratta di una bevanda energetica non prodotta nel luogo di origine dell'originale, ma prodotta nei paesi dell'est. Le lattine venivano importate da una società con deposito nel milanese, gestita da un italiano quarantenne e da un kosovaro di 50 anni, che vi apponevano poi le false etichette del noto energy drink. Queste lattine sono state rinvenute nella zona di Portapalazzo. Venditori ambulanti? Venditori ambulanti, ma in talunni casi anche piccoli negozi, soprattutto gestiti da cittadini stranieri, dove sostanzialmente questa bevanda era smistata, venduta nei classici frigoriferi, piccoli frigoriferi, dove si trovano anche altre bevande. Parliamo a Torino di 11.000 lattine, sostanzialmente circa, quindi considerata la quantità, alcune tonnellate di prodotto, molte erano stoccate nei magazzini, alcune addirittura al sole o in condizioni non ottimali che comunque non ne garantivano la conservazione. Per un valore di? Per un valore di centinaia di migliaia di euro, considerando che poi se il valore originale alla produzione è di pochi centesimi, il valore di vendita poteva essere anche di 4-5 euro. A lattina, quindi ricaricavano anche molto? Anche perché molte di queste lattine erano vendute da venditori ambulanti, in, molto probabilmente, in condizioni che attiravano l'attenzione del cliente, il caldo, il luogo. I turisti anche. Assolutamente, sì, anche i turisti.